ragazze ragazzi allora questo qui quindi è il video che avevo detto oggi la prima cosa da fare è ovviamente scaricare dataminer quindi si va sul sito dataminer bisogna andare qui nella casetta qua è nero aspetta non confondere le idee no io ho questo qua che fa diventare siti ok quindi vabbè quindi si entra nel sito qua alto edge spunta qua installa e poi una volta che si è installato spunta qua qua al lato in alto quindi vabbè fatto questo noi oggi abbiamo parlato appunto di fare scraping o in generale di scaricare dati dai siti e in particolare da Rotten Tomato per il progetto di sociologia del film ora questo dataminer si può utilizzare per qualunque tipo di sito in realtà però in questo caso stiamo facendo questo qua quindi una piccola cosa su come abbiamo fatto oggi quindi quindi innanzitutto andiamo su Rotten Tomato io già avevo cercato questo qua comunque tomatoes magari guardiani del destino che in realtà sarebbe The Jasmine Bureau quindi qui c'è il sito del film solo che le recensioni sono qui in fondo in realtà noi dobbiamo andare arrivato qui dove c'è il film qui praticamente reuse potremmo andare anche in altre pagine però tipo questa qui e qua però è strutturata un pochettino diversamente ma comunque si può fare lo stesso come oggi abbiamo fatto invece una volta qui qui sotto tomato main sotto tomato meter facciamo qua e quindi questa qui è la pagina che ci spunta in pratica ora cosa dobbiamo fare nella pagina che noi vogliamo andare ad analizzare con dataminer qualunque essa sia può essere mdb però adesso stiamo facendo questa qua noi dobbiamo in questa pagina premere l'icona ora una volta che noi la premiamo qui compare questa finestrella e ci sono sempre le public spai che forse quanto ne ha fatto zoom calmati vabbè comunque questa qua quindi in base ai siti potrebbero esserci delle public recipes nel senso che sono quelle lì già fornite automaticamente da dataminer non è detto che ci siano quando ci sono uno le può utilizzare però siccome a noi cioè quello che ci dà questa recipe già esistente a parte che non lo so però penso che dia cose che non servano comunque non quello che ci serve a noi siccome lo dobbiamo farcela noi dobbiamo fare qua ma il recipe io già ce l'ho perché è quella lì che abbiamo fatto oggi 10.01 cioè così penso che sia tutto quanto comunque allora quindi per farne una nostra l'iconcina questa qua della matitina sulla finestra dove c'è scritto chiaramente make a new recipe e compare questo qua adesso io siccome si è aperta una nuova finestra questa la metto a un lato e la pagina la metto qua cercherò di fare zoom se serve spero che si veda tutto quanto comunque vediamo se abbassano una luminosità forse si vede ancora di più vabbè fa niente allora quindi compaiono tutte quante queste cose qui in alto la prima sarebbe la prima sarebbe il tipo di risultato che noi vogliamo alla fine quindi o una pagina con una colonna con tutte le informazioni con una riga volevo dire con tutte le informazioni di volta in volta io ho fatto anche questa qui dove vi faccio vedere come viene oppure una tabella con tante righe e tante colonne che è quello che ci serve già selezionato ok poi questa qui non avevo la batteria fatto carica questa qui è una cosa che si può fare soltanto se uno ha la versione a pagamento e quindi non la possiamo fare ma comunque non ci importa a questo livello è una cosa per fare cose più complicate quindi la prima cosa che dobbiamo fare è impostare le le colonne della pagina che deve essere guardata quindi in questo caso parliamo di rotten tomatoes e quindi cosa dobbiamo fare qui su dataminer mettiamolo così magari si vede di più quindi qua c'è easy row finder oppure advanced finder quindi advanced finder praticamente va a trovare la parte html cioè ci fa ci fa guardare nell'html della pagina e noi se siamo se smettiamo abbastanza bene gli dobbiamo dire la parte di html cioè la possiamo dire nello specifico serve più a fare un lavoro di fino se è necessario insomma però in questo caso non c'è bisogno dopo comunque lo utilizziamo quindi easy row finder facciamo e praticamente se si passa nella pagina diventa questa questa specie di croce che fa selezionare i vari elementi html della pagina vediamo se si vede meglio si vede meglio e riuscirò a fare zoom ok per esempio in questo caso si vedono queste qua sono le recensioni all critics poi potrei fare tutto tutto quello che voglio posso fare comunque però facciamo questo qua quindi l'istruzione dice praticamente di premere uno sul primo elemento due sul secondo elemento e lui sulla base di questi qui deve capire tipo cosa accomuna di questi due e fa lui capisce della pagina sua tutti gli elementi in serie che deve prendere praticamente quindi io credo che questo qua row non è il row della non è la riga della tabella è la riga della pagina che lui deve andare a guardare secondo me comunque non importa la prima cosa è row finder è row noi dobbiamo cliccare row finder easy row finder ora la selezione della row non è sempre diciamo chiara cioè non è sempre una cosa ovvia su questa pagina funziona così l'abbiamo visto oggi bisogna selezionare come elementi questa parte non so perché quindi su questa parte si preme una sola volta uno ok e già lui lo dà selezionato tutto quanto il bordino facendo un zoom poi la seconda parte dovrebbe essere per esempio questa qui perché è un altro elemento in serie che lui deve prendere no? cioè ogni ogni rettangolino con le scritte in pratica ora io non ho fatto ecco e già qua si vede si vede innanzitutto qui che lui dà un risultato grande che dovrebbe essere il numero di recensioni che lui carica in una sola pagina non mi secco il contare comunque lui qui lo dice anche perché fa fare confirm che altrimenti non farebbe fare altrimenti ora vi faccio vedere risulterebbe un'altra cosa comunque quando lui è contento vi fa continuare ora se io invece provassi a fare a selezionare soltanto anzi a selezionare tutta quanta come io pensavo che bisognasse fare oggi invece non si deve fare così se io provo a selezionare tutto quanto il riguadro perché lui effettivamente le informazioni deve prendere da tutto perché poi deve prendere l'autore questa cosa dopo la vediamo comunque mettiamo quando voglio fare questo e lui trova una e poi quest'altra e ne trova due non succede niente le altre non me le seleziono sono selezionate soltanto queste due e lui non mi sta dicendo che ha trovato qualcosa e qua il conferma risulta ingrigino cioè è ingrigito non è blu come prima comunque facciamo quello lì che funziona era tanto per far vedere che improvvisamente lo si vede molto meglio aspetta no urca ok penso che vada bene così quindi mettiamogli come abbiamo fatto prima e lui fa in questo modo e qui appunto farebbe vedere quello cioè farebbe selezionare quello che comunque lui ha già visto su advanced comunque non è quello che ci serve adesso dobbiamo fare poi colonne ora le colonne sono dove noi effettivamente diciamo cosa prendere e cosa fare però funziona soltanto se noi abbiamo fatto rows correttamente perché se noi non l'abbiamo fatto correttamente non fa aggiungere colonne e per selezionare cose giuste bisogna provare e provare e provare perché magari prima appunto selezionava io credevo che bisognasse fare tutto quanto e non si fa insomma bisogna provare finché effettivamente non capisce che cos'è che prende e qui infatti sta prendendo tutte quante le cose sue cioè i riguadri delle recensioni ok quindi aggiungiamo la colonna abbiamo detto il professore voleva sapere l'autore perché su questo sito c'è l'attestata giornalistica anche dove che si scrive no? perché ci sono critici proprio quindi l'autore la rivista la data che può essere importante la recensione effettivamente cioè la recensione effettiva il testo anche se non è quella full e quello lì magari lo facciamo domani non lo so e il lo score per lo score quello è un discorso a parte comunque allora quindi la prima colonna deve essere autore abbiamo detto creiamo prima tutte quante le colonne e poi diciamo cosa fare autore data vabbè uguale uno può prima crearle poi andare a dire vai a prendere di questa pagina questa cosa come autore oppure prima crea tutte quante le colonne uguale data no già l'ho fatto testo recensione e poi attestata giornalistica vabbè attestata e poi il voto effettivo anzi scorre facciamo la testata la mettiamo dopo il coso ecco per spostare le colonne perché le colonne compariranno nell'ordine in cui noi le scriviamo qua 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 così per cambiare l'ordine nella finestrella che compare al lato quindi qui ci sono le varie cose qui ci sono tutte queste cose bisogna fare qui al lato scende questa finestrella cioè edit se noi la vogliamo modificare duplicate se noi la vogliamo duplicare giustamente se noi vogliamo creare una colonna sopra altrimenti la colonna sotto si può fare direttamente qua e poi move up move down per muoverle in base alla alla cosa abbiamo detto quindi ah che sta succedendo ok quindi la testata abbiamo detto sopra testata sopra ok autore testata data testo recensione e score ok quindi per l'autore abbiamo detto facciamo edit clicchiamo qui sulla questa cosa facciamo edit e dobbiamo dire oh cacchio ma perché questo zoom allora e diciamo abbiamo detto quindi edit e l'abbiamo aperto quindi edit ok easy con un finder altrimenti dobbiamo dire advanced settings e funziona sempre così sempre come ora vediamo comunque si va a selezionare tipo l'html preciso della pagina lo vediamo adesso spero che il zoom non sbagli quindi easy column finder l'autore si apre questa finestrella che ti dice che cosa noi vogliamo andare a selezionare di fatto può essere un testo della pagina un html text direct sarebbe per esempio quando qui c'è scritto full review questo questa scritta in realtà se ci si clicca apre un link e quello lì è il cioè se io seleziono text direct qui mi seleziona il link dietro a quelle scritte praticamente poi vabbè le varie cose che io posso potrei voler trovare diciamo nella pagina quindi io vado a selezionare il testo abbiamo detto che l'opzione è già spuntata se qualcuno ha difficoltà magari zoom vabbè facciamo questo e quindi qui mi dice io devo premere la c sull'elemento che io voglio che diventi l'autore che lui mi prenda come autore e qui c'è appunto una volta che lo seleziona diventa in quel modo ora si ora lo vediamo quindi di nuovo il la robina il puntatore mi diventa una croce ogni casa è una croce la casa è un cimitero quindi io praticamente devo premere per esempio l'autore qui è una selezion della pagina cosa succede? no rifacciamo quindi selezioniamo qui c perfetto quindi lui dice ok ho trovato questo qui questo qui è un item sì ora qui noi dobbiamo dire di sì non è che però lui troverà solo questo dopo non lo vediamo se noi facciamo conferma ok e spuntano tutti gli autori selezionati quindi se la selezione ve l'ha fatta giusta noi gli diciamo ok altrimenti torniamo a modificare con easy roba finder e così praticamente per ogni cosa adesso lo faccio anche per gli altri un attimo ora una cosa particolare è poi per lo score qual era il problema il problema è che qui su questo sito nella riga del voto c'è anche la scritta for review noi in classe volevamo togliere il for review e avere soltanto la scritta original score questa cosa non siamo riusciti a farla cosa bisognerebbe fare che forma la verità cosa bisognerebbe fare per trovare quello che stiamo cercando quindi qui invece di fare easy con un finder che trova semplicemente questo elemento che è full review e poi original score giusto che c'è scritto b qua ah perché sta perché io ho cliccato su una cosa che va alla b però perché io ho cliccato su questa non è che va a cercare soltanto questa qua comunque se io non sono contento devo fare advanced settings settings non sono mai contento quindi devo fare advanced finder e lui praticamente mi dice sull'elemento in particolare sull'elemento in particolare che tu vuoi selezionare devi premere shift e se tutto va bene diventa verde così ok io aprendo questo e vado a selezionare l'elemento che mi interessa che sarebbe questo qui vediamo se stavolta funziona ok e lui praticamente va a dirti che cos'è che sta trovando di html in tutto in quello che ho cliccato quindi se io gli clicco div lui va a selezionare infatti tutti i div ogni cosa ovviamente un div va a selezionare tutto quello che c'è di questa zona che vi ho detto e non è quello che ci interessa giustamente vogliamo ogni cosa quindi io penso che sia questo e quindi qua perché se io seleziono questo mi seleziona tutte le cose piccole io penso infatti mi seleziona anche questo tutti perché è subtle e quindi tutte le cose più piccole forse small seleziona anche il login quindi non lo so mentre se io gli dico review link mi spunta questo qui poi qui io gli posso dire su view dove view selected html quindi io c'è questa pagina qua qui dico selezione vari elementi ogni volta vedo qual è che mi interessa penso che questo qua è quello che mi interessa di più perché è quello lì che se io lo vado ad aprire nel che si trova così prima se io gli dico view selected roba qui praticamente mi va a trovare questa ok questo qua è tutto quanto un div small subtle review link ok quindi praticamente tutta una classe ok ora come avevo detto prima qui c'è a link c'è ref non è link ref ref href porca muttana e questo qua è il link che c'è dietro la scritta for review quindi io qua clicco su for review e mi ha qui sul sito piccoli e mi apre la recensione intera per intero nel sito originale praticamente penso che funzioni così comunque qui praticamente lui mi dovrebbe selezionare questo qui la scritta dopo si trova sempre in questo div ma io non ho un modo per identificare questo qua e quindi qui io non lo so fare oggi abbiamo capito che non lo sappiamo fare comunque questo qua era per capire se qualcuno non vuole risolvere questo problema è questo qui dovrebbe trovarsi altrimenti è dove non l'abbiamo guardato giustamente quindi poi dopo aver fatto questo qui aver finito tutte queste robe l'altra cosa dopo colonna dopo questo e dopo colonna c'è nav ora nav praticamente è un punto dove io gli mostro gli elementi di navigazione che lui deve premere per andare avanti nelle pagine o per fare determinate azioni che è un po' quello che succede sulla page 3 però lì è tutta quanta analista di cose e anche su dove c'è scritto qui js sarebbe javascript solo che noi non lo sappiamo fare e comunque non ci serve per questo tipo di cosa ha detto anche il professore quindi in questo caso per la next page automation automation vabbè sono scemo stasera quindi ci serve dopo dopo vediamo comunque praticamente se io devo fare una ricerca che deve guardare a più pagine che si trovano una in sequenza dell'altra c'è una dopo l'altra gli devo indicare il tasto per continuare e quindi in questo caso è next praticamente devo impostare questo qui come faccio? sempre easy nav finder questo qui lui mi dice la n sul bottone cioè sul pulsante che lui deve premere per andare avanti nelle pagine c'è scritto anche qui next page link examples in questo caso è questo seleziono sempre l'elemento perché il cursore mi diventa sto selettore n no affanculo mi ha selezionato la pagina sta implodendo il mondo quindi questa è selezionata penso no rifacciamo di nuovo la n non la scritta next vediamo dovrebbe essere questo qui mi pare che era questo qui oggi perché se io gli dico soltanto next lui mi fa andare avanti però cosa trova non si sa comunque bisogna farlo così qualcuno oggi aveva selezionato da qua aveva cercato di selezionarlo più precisamente però non aveva funzionato mi pare bisogna insomma vaffantera bisogna insomma fare così vi seleziona questo qua next negli altri siti e in altro modo se non funziona nelle altre ricerche bisogna modificare dopo è una cosa che si vede in itinere si prova vedendo facendo ok quindi questo qui va bene ok e allora noi abbiamo finito save dobbiamo salvare la recipe quindi io qui gli devo dire il nostro scape e lui mi apre una pagina di dataminer dove mi fa questo lavoro ora quindi qui praticamente visto che compare qui in griggetto è soltanto la preview non è la ricetta tutta cioè non è non sono i dati già presi è soltanto la preview di quello che mi mostra facendo quel tipo di istruzione su quel tipo di pagina e vediamo che mi prendo quello che ci interessa qua c'è sempre original score qua c'è original score con la parola full review ma questo qua ce lo possiamo levare dopo possiamo fare con excel possiamo lavorarci su è facile quindi cos'è che ci serviva prima ci serviva trovare più dati più cose quindi noi dobbiamo fare una di queste tre quindi newscrape praticamente fa una sola tabella con i valori che io gli dico se io seleziono un'altra pagina un altro film lui mi cancella quella che io ho fatto me ne fa una nuova quindi se io avevo fatto una se io voglio i 100 le 100 recensioni per esempio le prime 100 recensioni però sono organizzate a gruppi di 25 quindi 25 per pagina quindi 25 deve premere next 25 deve premere next se io gli dico soltanto newscrape lui mi fa 25 passo nella pagina dopo e me la cancella quella di prima e mi fa dalla 25 alla 50 praticamente per fare un esempio invece se io faccio scrape and append lui me ne salva 25 gli dico per esempio un altro film e me li include nella lista che io ho già creato nella cosa che io ho già creato per esempio non che ci serva farlo mettendo per spiegare invece se io faccio next page automation vaffanculo lui praticamente dice quello che deve cioè lui va avanti nelle pagine come avevamo detto prima qui c'è scritto il numero di pagine che lui deve andare a guardare e il ritardo tra tra più pagine questo qua serve penso siccome qua c'è scritto tipo che il ritardo tu gli dici 8 secondi ma potrebbe essere 6 potrebbe essere 4 perché magari certe pagine bloccano quelli che gli sembrano bot e fare questo può avere un numero di di scopi però non è quello di cui adesso dobbiamo parlare vabbè 8 secondi poi stisso quindi se io voglio raccogliere più pagine gli dico Skype 10 pagine e lui praticamente che cos'è che fa mi gira mi fa le congine che gira nel frattempo lui me le raccoglie e adesso sono 40 e siccome gli ho detto 10 pagine ogni pagine c'ha 20 recensioni lui mi troverà 200 rows ognuna di queste rows sono una recensione con il nome la testata da cui ha scritto la data il testo della recensione ovviamente se io apro qua se io apro un testo cioè lui mi compare solo le prime ma se io apro ovviamente tutto qua e qui c'è lo score però anche con la scritta for review una volta che lui ha finito tutta sta roba io gli posso dire anche basta gli dico download e gli posso dire excel file o csv lui ha detto che si possono fare tutte e due anche soltanto excel va bene excel e poi si può aprire con excel oppure con goal sheets spero di essere stato chiarino che si può aprire che si può aprire